Esperti da tutta Europa a Termoli per discutere di buone pratiche di turismo sostenibile e coinvolgere gli operatori del territorio. Progetto Land Sea e opportunità offerte per migliorare non solo le politiche regionali, ma creare le condizioni per favorire iniziative di confronto e crescita. All'Università ha un momento di condivisione per fare il punto sulle attività e le strategie individuate. Con la Regione Molise sono coinvolti le autorità di Bacino, Liri, Garigliano e Volturno, l'amministrazione di Varna in Bulgaria, la città di Hamburgo in Germania, il governo della Catalogna e l'Agenzia di Ecologia Urbana di Barcellona in Spagna. Attivare attraverso il programma operativo regionali di Regione Molise dei bandi che serviranno per lo sviluppo di imprese nel settore ecoturistico, di favorire la formazione degli operatori in ambito ecoturistico e quindi di creare dei canali e delle opportunità per la Regione Molise, in particolare per il territorio di Termoli, per appunto mettere in pratica quelle che sono le buone pratiche che sono venute fuori da questo progetto. Un'occasione concreta di sviluppo ha osservato l'assessore regionale Nicola Cavaliere, in cui il Molise può fare la sua parte da protagonista considerate le peculiarità del territorio. L'approccio del progetto LandSea si basa sull'apprendimento interregionale, incluso lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della conservazione, del recupero e della gestione sostenibile delle zone costiere, ma anche sull'istituzione di principi guida comuni per lo sviluppo e la promozione dell'ecoturismo sostenibile e responsabile. Dall'esperienza che abbiamo avuto con i paesi partner, l'Italia è ancora un po' dietro, nel senso che l'ecoturismo è un settore che ha grandissimi margini di sviluppo, è chiaro che è un problema culturale, ci vuole un approccio diverso, una mentalità nuova di come presentare e di come promuovere i nostri territori e quindi la valorizzazione si va benissimo, ma anche appunto una promozione che porti sicuramente a far crescere un settore che ha delle grandissime potenzialità, anche per piccole e medie imprese oppure giovani.